Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori ci sono code in uscita a Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sulla A1 fino alle 20 del 30 ottobre è chiuso per lavori il tratto tra Pian del Voglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. In direzione Bologna uscita consigliata Badia sulla variante di Valico. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento della A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Gavorrano, Scalo e Giuncarico. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero a causa di una frana senso unico alternato tra Bagni di Lucca e Piandi Ospedaletto. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.